Sono Roberto Inguaggiato, Business Development Manager e vi do il benvenuto nella piattaforma di Tenderstool. In questo video andiamo ad evidenziare un bando di gara dell'acnomarzo da parte dell'Università degli Studi di Milano per un importo di euro 1.619.850 relativo al servizio di single point of contact e di assistenza specialistica hardware e software di primo e secondo livello alle postazioni di lavoro, suddivisa in due lotti per un periodo di tre anni. Servizio di assistenza specialistica hardware e software di primo e secondo livello alle postazioni di lavoro. Mentre per la parte delle aggiudicazioni voglio evidenziarvi una gara che è stata vinta il 26 febbraio per il servizio di realizzazione e manutenzione di una piattaforma di circolazione da parte delle Ferrovie Nord Spa ed aggiudicato dall'azienda Trenolab per un valore di euro 405.900. Ci vediamo la prossima settimana. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie.